Una conferenza stampa qui in Regione per motivare le ragioni di una scelta, una scelta che non prevede un abbandono dal partito ma una autosospensione. Sì, diciamo che è limitata nel tempo, non è che si può essere sospesi così tanto per un tempo illimitato. La fammella è ancora accesa, nel senso che c'è ancora la speranza di poter dialogare con un partito almeno per chiarire le posizioni e le linee dettate fino a questo momento dal partito in provincia di Foggia e sul territorio regionale. Paolo Dell'Erba è stato un consigliere comunale, perché è anche consigliere comunale da Bricena, che ha sottoscritto anche la lista che poi di fatto ha fatto vincere il centrosinistra a Foggia, facendo perdere il candidato di Forza Italia. E questa è stata una delle ragioni che mi ha spinto a capire realmente Forza Italia cosa va trovando. Allora, va trovando un partito che remi a suo favore o che remi contro. E mi pare che io sia ragionato un po' al contrario. Sì, oggi fino alle 10 si potevano presentare le mozioni, pare che si sia presentato solo la mozione di Dell'Erba, facilitata ovviamente dall'abbandono del congresso da parte mia. Non c'era assolutamente paura di affrontare, questo lo voglio chiarire per tutti, non c'era paura di affrontare il congresso. Il congresso era esattamente spaccato a metà, 2.034 tessere di cui 900.000 erano riconducibili all'ala dell'Erba, 900.000 riconducibili ai miei amici tesserati e a un gruppo storico di Forza Italia. Quindi paura di affrontare il congresso? Assolutamente no. Però siccome io ritengo che un chiarimento era necessario prima di affrontare il congresso provinciale, siccome io sono abituato a fare le cose seriamente anche a favore del nostro elettorato, che poi a un certo punto non ci capirà più nulla, ho ritenuto quindi di abbandonare il congresso. Grazie a tutti.